Allora hai controllato la distanza fa vedere qui il problema è il problema dove essere il mangiare siamo tutti rovinati però abbiamo trovato un posto che adesso gli diciamo basta perché si arrampicava i piatti sono vuoti però quello la parla i bicchieri sono pieni i ravioli giovanni si è a dieta le ha avanzati è avanzato era buono si si sono buono mio cognato c'è l'r80 parigi d'attacco il bianco e rossi no io passerei a che dolce ha se mi freddo l'amaretto è meringata se mi freddo l'amaretto si però lì è buono se mi freddo l'amaretto anche per me dai se mi freddo